Il terzo spigolo della Tofana di Rozes è una via classica di stile alpino nelle dolomiti affacciati su cortina. Si compone di 17 tiri per un dislivello complessivo di 780 metri con difficoltà che arrivano al quinto grado. Segui la nostra avventura nel cuore della parete e non perderti la vista a 360 gradi del tiro chiave della via. Sono le 5 e 40, Barijón sta andando via come un treno e siamo sotto la Tofana di Rozes. Qua vediamo che sta albeggiando, il sole non è ancora uscito però sta già illuminando la parete della Tofana. L'obiettivo di oggi è il terzo spigolo e si vede qua. Ecco il primo, ecco il secondo e noi andiamo sul terzo che segue quella linea lì. Anche i primi raggi di sole che bagnano la parete. Sono veramente felice perché è una giornata perfetta per queste robe qua. Siamo al cannellino finale, qui si sale e l'attacco è lì e si inizia a salire. Siamo con Bari, benvenuto nel nostro video. Si parte subito con dei passaggi impegnativi e un tetto che spesso si trova bagnato. Eccolo che arriva. Ha capito che bisogna andare lì qua. Bravo. E adesso, dalla seconda sosta, andiamo su dritti. Questa è semplice. Siamo al sesto tiro. Abbiamo da fare qui il traverso. Andiamo via veloci. Qui stiamo salendo il traverso del nono tiro che si fa praticamente a piedi. Prima vediamo Cortina da qui. Questo è l'altro pilastro. E noi andiamo lì. Siamo alla nicchia del nono tiro. Qui vediamo la gente che arrampica il secondo spigolo. E adesso siamo pronti a salire dritti. Te lo mostra Bari con la Istra 360. Eccolo che arrivo. Primo passaggio di quinto della via. Eccoci in cima al quattordicesimo tiro. Siamo nella grotta della Tofana. Sono le 3.40. Stiamo arrampicando da sette ore. Ma siamo in formissima. Ormai dobbiamo fare quel traverso per andare di là. E poi ci sono solamente due tiri che separano noi dalla cima. E sono i tiri chiave. E chi è che ve li mostra? Matteo Barisonna. Eccoci la partenza del tiro chiave. Un bel passo da fare. Quattro diano. Quattro diolo. Čutale. Eccomi all'arrivo, è da otto ore che arrampico, mi viene tristezza pensare che sia già finita. Buona giornata strepitosa, ci abbiamo messo otto ore e venti, la via facile da trovare, avevo sette friend con me, li ho messi giù praticamente in tutti i tiri, chiodi pochi e vecchi. Noi siamo arrivati al rifugio alle 5 e mezza, se arrivate al rifugio dalle 6 e mezza in poi mettetevela via che sarete dietro a tante cordate. E qua poi se volete adesso c'è il sentiero che va su e si può o andare in cima all'Altofana se ne avete voglia, se no si va giù al Giussani e poi al Di Bona. Grazie a tutti, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale per nuove avventure. Ciao ragazzi!